Magovedibile Ok, allora nella variazione dell'One, ripeto Attenzione alla dinamica, anche piccole ed un tempo Cantano Dir De different Ri Dav 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 la fa ok la fa attenzione qua tutto per un pollice così dai sotto la risci a come andare meglio e ai più di formi dati timbro e dai un bel peso per un pollice la fa do si la sol fa mi e che scena sol fa mi la sol fa mi ok ma va va e giò e che c'è tutto bene ma si sente proprio il cavolo che non era versibile quindi in questo cavolo cerca di uniformare questo timbro dei due signi che sono lo stesso senso con dolcezza più dolce per andare ad assomigliare al sito allora nella melodia coerentemente sta andando avanti quello stesso timbro questo è importante perché se no si è capito questa cosa sta iniziando a riprodurre come un allento va bene però però cerchiamo di risalzare ma di essere più presenti tiriamo sul rum ok proviamo questo e questo questo non era molto convinto perché sei partita così un po' a caso prima di partire mi era la mano concentra e pensa a quello che stai capire questo 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 primo è molto importante quindi dai un po' leggero e questo più forte semmai non è importante semmai ma quindi immagina il più oggetto ok ok ecco 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 anche qui cerchiamo di fare un po' di crescendo naturalmente fai sentire bene la regatura cerchiamo di farla più buonetta più buonetta in maniera ritmica abbastanza sostenuta pregh! v abajo line osce v ecco 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 Quindi diventa anche simulare, ti voglio aggiungere questo qua e poi in pratica lo spiugio. Sì, anche qua, così lo devo mettere in un tronco. Su, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la. 5сти center, i ragazzi del root, i ragazzi, i ragazzi, i telli, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, la razzirà. Ora ci affichiamo questa variante che abbiamo chiamato jazz, quindi vi ricordate così che due parti Tutti gli informi che il sottotitolo è proprio purezza, e con un gioco non e poi un gioco Sì sì Ciao 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 Io c'è la stessa sì io penso Ciao 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 Sì, è più delicato, però devi dire che le cose che le possano suggerire. Ma poi è in realtà anche l'idea di lettura, che non si trova negli studi. Sì, che si fa tanto soffeggio e altre cose, però alla fine non si deve trovare. Non è nemmeno pensare, non è nemmeno pensare, ma non è un'attività. Mi sembra che fosse un'attività, non è un'attività. Non è un'attività, non è un'attività, ma non è un'attività. Non è un'attività. la seconda volta dai su Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.